Musica Intensa giornata aquilana per il Vice Ministro all'Economia e alle Finanze, segretario di Scelta Civica Enrico Zanetti. Primo appuntamento, assieme all'On. Giulio Soltanelli, l'incontro con una delegazione del Comitato Difesa e Risparmiatori, Banca Etruria di Pizzoli, che hanno perso tutti i loro risparmi con il crack dell'Istituto di Credito. Poi l'incontro istituzionale a Palazzo Fibioni, con il Sindaco Massimo Cialente e con il Presidente della Gran Sasso Acque, Americo di Benedetto, con cui ha visitato l'area di cantiere dello Smart Tunnel. Zanetti ha portato buone notizie ai risparmiatori di Banca Etruria. Il decreto che consentirà i rimborsi sarà approvato la prossima settimana. Passa la linea che era stata anche portata avanti, in particolare dall'On. Soltanelli, di Scelta Civica, con un emendamento col quale si chiedeva di superare il tetto dei 100 milioni. Cosa prevede in soldoni? Prevede in soldoni che tutti quelli che non sono stati adeguatamente informati o addirittura truffati riavranno i loro soldi per intero senza tetti, come è doveroso che sia. Soddisfatto il Sindaco di Pizzoli, Gianni Anastasio. Dalla risposta del Vice Ministro Zanetti si capisce che la sensibilità al governo rispetto a questi problemi è cambiata. Questo cambiamento poi verrà sancito con il decreto che lui stesso ha detto la prossima settimana dovrebbe uscire e dovrà contenere i criteri con i quali poi verranno stabilite le modalità di rimborso di questi soldi. Zanetti si rallegra poi per come sta procedendo la ricostruzione possismica aquilana e allargando lo sguardo a temi di scottante attualità promette che gli italiani che hanno aperto un conto a Panama smascherati dall'inchiesta giornalistica internazionale dei Panama Papers saranno oggetto di rigorosi controlli fiscali. Poi ci sono tanti italiani che invece i soldi li portano a Panama. Beh, quelli italiani che li portano a Panama, che erano italiani che prima ancora più comodamente li portavano in Svizzera cosa che non possono più fare perché il nostro governo ha finalmente fatto superare il segreto bancario svizzero li hanno portati a Panama, adesso saltano fuori dei nomi interessanti, l'Agenzia delle Entrate sta lavorando. Quando la poesia incontra le arti visive, la musica elettronica e il suono mescolando i linguaggi artistici a caccia delle origini della comunicazione umana. Questo e molto altro è alla base dell'evento live di poesia multimediale dal titolo Fede o Sete in programma domani sera alle 21 al Palazzetto dei Nobili. Il conflitto interiore tra essere qualcuno o far parte di un qualcosa, nonché la scelta del singolo individuo sono i muri portanti di questa costruzione poetica. L'evento è organizzato da il Demiurgo, l'Officina dei Saperi, e da Pasquale Cicirelli che ci spiega l'origine dell'idea. L'idea è quella di utilizzare e partire da quello che è appunto il tema Fede o Sete per arrivare attraverso una sperimentazione multimediale dinamica e quindi attraverso le diverse arti a sviluppare un tema che è fondamentale per ognuno di noi e che è quanto mai odierno, che è appunto quello della scelta. Durante l'evento sarà proiettato il cortometraggio Claudia, realizzato da Pasquale Cicirelli e Giuseppe Rellini con la partecipazione di alcune studentesse dell'Aquila. Al nostro microfono Claudia Salvatore, studentessa del liceo musicale Cotugno, che interpreta Claudia, la protagonista del corto. Claudia è una ragazza studentessa che vive all'Aquila, che ha 18 anni. Nel cortometraggio vediamo il confronto tra lei e le sue amiche e sulle scelte che andranno fatte una volta finita il liceo e anche quanto può influenzare la città in cui vivono. Diciamo che lavorare insieme alle mie amiche è stato molto più utile perché, essendo io la protagonista, ho estraniato una parte di me che non conoscevo. Comincia a prendere forma l'Aquila targata Giacomo Modica. In vista dell'esordio in panchina dell'ex braccio destro di Zeman a Roma e a Cagliari, i Rosso Blu stanno provando ripetutamente il 4-3-3 durante gli allenamenti di questi giorni nel ritiro di Amatrice. Modica ha però diversi grattacapi a causa degli infortuni. In difesa Emanuele Pesoli è out da inizio settimana, mentre da martedì si è fermato anche Giordano Maccarrone. Per lui si parla addirittura di sospetto stiramento che potrebbe metterlo fuori causa fino a fine campionato. Contro il Siena dovrebbe quindi esserci l'inserimento di uno tra Bruno e Sanni al centro della difesa, con Piva, Chirieletti e Di Mercurio a giocarsi due posti da esterni del quartetto arretrato. In mediana, senza il croato Milicevic, ancora out per problemi muscolari alla gamba, toccherà di nuovo a Benzaglia a prendere in mano le chiavi del centrocampo, con Bulevardio, De Francesco e Manuel Mancini in posizione di mezzali offensivi con la licenza dell'inserimento. In attacco più probabile che Modica scelga Perna come punta centrale rispetto a De Sousa, in virtù dell'abilità spalle alla porta dell'attaccante campano. A supporto, l'unico che di sicuro partirà titolare è Salvatore Sandomenico. A segno per la dodicesima volta nella debacle di Prato e a soli due gol dal record personale in un campionato professionistico, 14 reti ai tempi dell'Arzanese. L'ultimo posto nella tridente offensivo è in ballo tra Andrea Mancini, Ceccarelli e Triarico, ma per stato di forma e diligenza tattica Triarico sembra favorito sugli altri due. Buone notizie intanto arrivano sullo stadio di Acquasanta, che sarà la nuova casa dell'Aquila a partire dal prossimo campionato. Da martedì è infatti iniziato il montaggio dei seggiolini rossi, mentre da ieri mattina sono stati montati anche i primi seggiolini blu. Nei prossimi giorni infine partirà anche l'installazione del sistema di videosorveglianza, poi tutte le certificazioni del caso prima dell'inaugurazione prevista entro mezza estate.